La violinista del re, capitolo 1, ritorno a corte. Le carrozze avanzavano lentamente lungo il viale alberato che conduceva alla corte reale. Il sole del tardo pomeriggio filtrava attraverso i rami degli alberi secolari, gettando lunghe ombre sulla strada. Vittoria Bellini osservava il paesaggio familiare dal finestrino, il cuore che batteva con una miscela di nostalgia e ansia. Era trascorso un decennio da quando aveva lasciato quel luogo, ma ogni dettaglio sembrava immutato. La carrozza si fermò di fronte al maestoso palazzo reale. Vittoria scese con grazia. Il suo abito scuro ondeggiava leggermente al vento. Le grandi porte dorate del palazzo si aprirono, rivelando una scalinata di marmo bianco che brillava sotto la luce del tramonto. Servitori in livrea si inchinarono al suo passaggio e lei avanzò con passo deciso, ma il cuore pesante di ricordi. Entrò nella grande sala, un vasto spazio adornato da affreschi e arazzi. Al centro della sala, un enorme lampadario di cristallo pendeva come una cascata di stelle. Le finestre ad arco, alte fino al soffitto, lasciavano intravedere i giardini lussureggianti all'esterno. Dall'altro lato della sala, re Alessandro Tergio la osservava con attenzione. Alto e robusto, il re aveva una presenza imponente, i suoi occhi blu ghiaccio riflettevano autorità e saggezza. Il suo sguardo si posò su Vittoria e per un momento il tempo sembrò fermarsi. Accanto al re, Luigi Monti, il suo fidato consigliere, seguiva la scena con uno sguardo vigile. Luigi era un uomo di media statura, con una corporatura atletica e capelli scuri corti e spettinati. I suoi occhi verdi, sempre attenti, scrutavano ogni dettaglio. Quando il re si voltò verso di lui, Luigi annuì leggermente, confermando l'identità della nuova arrivata. «Chi è quella donna?» chiese re Alessandro, senza distogliere lo sguardo da Vittoria. «È Vittoria Bellini, maestà, la violinista più talentuosa del regno». «È tornata», rispose Luigi con rispetto. Il re annuì lentamente. «Il tuo ritorno non passa inosservato». «La corte mormora, ma io voglio sapere da te. Perché sei tornata?» «Sono tornata per riprendere il mio posto, maestà, e per rimediare agli errori del passato», rispose Vittoria. Il re la guardò a lungo, poi annuì. «Bene, allora inizia subito. Questa sera suonerai per noi. Mostra alla corte chi sei veramente». Quella notte, la sala era gremita. Vittoria prese il suo violino, le mani ferme nonostante l'emozione. Quando le prime note risuonarono nella sala, tutti rimasero incantati. Ogni nota era un pezzo della sua anima, un racconto di dolore, amore e speranza. Re Alessandro la osservava, il suo sguardo fisso su di lei. Luigi, accanto a lui, sorrideva lievemente. Sapeva che il ritorno di Vittoria avrebbe portato cambiamenti, ma forse erano proprio i cambiamenti di cui la corte aveva bisogno. E così, con la musica che riempiva la sala, iniziava il primo capitolo di una storia che avrebbe cambiato per sempre le vite di tutti alla corte. Vittoria Bellini era tornata e nulla sarebbe più stato come prima. Vittoria Bellini era tornata